Buonasera, io mi chiamo Teresa Aperone, vengo da Isola Capone di Sudo. Le mie misure sono 90, 60 e 90, cantare, ballare e recitare. Se mi permettete vi canto subito una canzone tipica calabrese. Posso? A palumberra ianka ma muzzicata la gamba, a palumberra ianka ma muzzicata la gamba. E ho in essi, mi va bene e la gamba non mi da toccare, ma noia l'anime mamma ta. E la gamba non mi da toccare, ma noia l'anime mamma ta. Scusate, scusate, mi sono un attimo emozionata. Comunque io sono orgogliosa di essere calabrese, perché la mia terra è un paese bellissimo, dove c'è tanto sole e tanto mare. Non come a Milano che ci sono stata, che c'è solo la nebbia, o come a Roma che c'è solo il traffico, ma è bellissima. A proposito, una volta nella mia terra, a Isola Caporezzuto, hanno starato una macchina con un bazooka e ci do pure al telegiornale. Evidentemente se lo meritavano.